Voi siete pronti? Sì, siamo pronti. Bene, iniziamo. Come se lo spiega il successo delle linee erotiche. Noi, qui alla Teledaz, forniamo un servizio che aiuta gli uomini a sfogare il loro impulso. L'estate in cui l'Olanda ha vinto gli europei di calcio, abbiamo assistito tutti alla nascita di una nuova epoca. È stato il periodo migliore della mia vita. La cocaina veniva venduta a Piazza D'Ano e il sesso telefonico sta diventando sempre più popolare in Olanda. Qualcuno stava guadagnando una fortuna inimmaginabile. Hanno iniziato in un garage con poche migliaia di fiorini. È un'idea geniale. Segui il mio dito? Un fiorino? Un fiorino? Non sono una che ama esagerare, ma stiamo scrivendo la storia in questo momento. Ehi, DJ! Musica! Se te ne vai adesso, la tua vita resterà esattamente come è. The winner takes all. Welcome to the revolution, baby. Questo sarà il nostro decennio? Sì! Le cose potevano solo migliorare. Giusto? Ciao! 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 Grazie a tutti.